Buonasera, siamo a Sorbo, guardate che incontriamo il signore Giuseppe Scalise che manda tante salute a tutti, benvenuto a Sorbo, prego. Grazie a tutti i sorbesi e sono contento quando vengono le mie terre native, ciao a tutti. Grazie, guardate che bontà che stanno mangiando. Buonasera a tutti da Sorbo, ciao ciao.